Fa ingresso il Presidente del Consiglio dei Ministri. A inizio la prima conferenza nazionale delle autorità di protezione civile, prende la parola il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dottor Angelo Borrelli. Signor Presidente, Signore Presidente delle Regioni, cari colleghi e colleghi del Servizio Nazionale della Protezione Civile, buongiorno e benvenuti alla prima conferenza nazionale della protezione civile. Perché è una conferenza nazionale? Perché il sistema di protezione civile è stato istituito dal 92 e sono più di 27 anni che noi facciamo attività di protezione civile a diversi livelli ma non ci siamo mai confrontati insieme in un unico giorno con le autorità di protezione civile per condividere obiettivi, strategie e quello che è il percorso per far crescere la resilienza dei nostri territori e la sicurezza dei nostri cittadini. Prima di incominciare intanto vorrei fare un minuto di silenzio in onore dei caduti di ieri dei colleghi Vigili del Fuoco. Prima di incominciare intanto voglio anche rivolgere un augurio di pronta guarigione a coloro i quali sono stati colpiti dall'evento. Io farei un applauso, grazie. Abbiamo contratto i tempi di questa manifestazione perché ci sono impegni come voi sapete sia del presidente che di altri ospiti quindi io a questo punto era previsto un video l'abbiamo accorciato sono due minuti sono delle foto due tre foto per dire della settimana della protezione civile e voglio ringraziare il presidente del Consiglio dei Ministri perché con direttiva del primo aprile di quest'anno ha indetto la settimana della protezione civile è stato una settimana ricca di appuntamenti di attività le vedremo adesso nell'immagine se possiamo far partire questo breve video di due minuti non ha parlato non ha sonoro perché appunto volevamo essere veloci qui ci sono un po' di numeri di quello che abbiamo fatto 8.000 volontari in campo 850 sono state le piazze le piazze io non rischio più tutta una serie di manifestazioni che abbiamo fatto col mondo della scuola col mondo della ricerca scientifica abbiamo avuto qui nella giornata dedicata all'istruzione della ricerca scientifica il ministro dell'istruzione abbiamo realizzato 350 eventi sul territorio nazionale voglio ringraziare anche il prefetto Piantedosi perché nella giornata in cui era prevista questa manifestazione abbiamo tenuto una riunione con tutti i prefetti della Repubblica abbiamo deciso che ogni sei mesi faremo una riunione con i prefetti della Repubblica per aggiornarci sulle attività di protezione civile abbiamo anche tenuto avete visto scorrere i numeri una grande esercitazione nell'area dei campi fegrei si tratta di attività formativa informativa che abbiamo fatto come sistema di protezione civile era previsto adesso la mia presentazione con gli obiettivi del sistema di protezione civile io la rimanderei a dopo chiederei a coloro i quali mi seguono negli interventi di intervenire e poi lascerei la parola al presidente del consiglio in modo tale che noi poi proseguiamo successivamente grazie grazie dottor Borrelli prende ora la parola il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco ingegner fabio d'attilo signor presidente autorità intanto grazie per questa vicinanza nel momento del cordoglio vicinanza che io estendo al collega dei carabinieri che è rimasto ferito nello stesso incidente ieri notte alla in provincia d'alessandria è stato veramente una cosa molto brutta perché di solito i pompieri lasciano la vita per salvare gli altri in questo caso sono rimaste vittime di un chiamiamolo attentato incendiario una sola slide avevo preparato per mostrare dei numeri dei numeri che sono quelle dei vigili del fuoco se è possibile vederla ci metterò un minuto e dire che i vigili del fuoco sono fieri di fare parte come componente principale del sistema di protezione civile il sistema di protezione civile come abbiamo detto è fatto da tantissime autorità ma fra queste autorità i vigili del fuoco nel momento del soccorso sono fieri di essere il primo violino quando si suona in un'orchestra solo nel momento del soccorso la parte della previsione della prevenzione della ricostruzione sono a pannaggio di altre autorità ma nel soccorso noi ci siamo con dei numeri che si possono vedere i vigili del fuoco sono 33 mila in tutta italia ma questo numero potrebbe ingannare perché dovendo lavorare 24 h per 365 giorni l'anno i vigili del fuoco in realtà in servizio in questo momento in italia sono circa 5 mila ma in caso di calamità abbiamo la forza autonomamente di poterci duplicare quei 5 mila possono diventare con il raddoppio dei turni 10 mila e nel giro di poche ore possiamo essere circa 2.500 l'aquila ce l'ha mostrato all'interno di qualsiasi calamità muovendoci da da tutta l'italia con le stesse procedure con gli stessi mezzi con con lo stesso modo di agire tant'è che poi anche logisticamente siamo autonomi e possiamo sostituire un vigile della sicilia con uno del veneto che conosce lo stesso linguaggio e a conoscenza delle stesse strutture ovviamente all'interno del nostro grande gruppo ci sono tante specialità quelle che più interessano la calamità sono quelle dei saf cioè coloro che si calano dall'alto sono quelle del soccorso all'interno delle macerie che si usare sono quelle che agiscano e lavorano nell'acqua e che lavorano ogni giorno per tutelare la salvaguardia delle persone oltre all'articolo 10 che noi abbiamo salutato molto positivamente come codice di protezione civile pungolo tutti i nostri correghi affinché quel famoso articolo 18 che tiene conto dei piani di emergenza che dalla cellula più piccola del comune si estendono alla regione per poi diventare piano dello Stato vengano a essere emanate presto le linee guida perché sono ciò che serve alle comunità alle comunità locali per scrivere rispetto ai rischi che hanno all'interno di ciascun comune questo piano comunale la somma dei piani diventa regionale l'autorità regionale poi si confronterà con le autorità statali e qui c'è un piccolo problema che nasce dalla catena dell'organizzazione dello Stato rispetto alla catena dell'organizzazione della protezione civile perché abbiamo comuni regioni e Stato nella catena della protezione civile invece abbiamo comuni province e Stato nell'organizzazione dello Stato ne abbiamo parlato più volte con il dottor Borrelli bisogna trovare all'interno della regione come dire un referente dello Stato anche i direttori regionali possono diventarlo ma un referente dello Stato che assolva i compiti che oggi sono dei prefetti della Repubblica e quindi con questo auspicio che vi lascio ricordando ancora i colleghi che sono morti e soprattutto onorando coloro che oggi sono in servizio nonostante tutto nonostante l'amarezza di questa di questo cordoglio che devono vivere stando in servizio grazie ancora grazie grazie ingegner Dattilo e prende ora la parola il presidente dell'unione nazionale dei comuni comunità e denti montani dottor marco bussone signor presidente capo dipartimento autorità grazie per questa occasione io mi soffermo in breve su una parola chiave che per noi è determinante che quella della prevenzione che vuol dire cultura resilienza investimenti nel supportare i comuni la nostra rete di comuni assieme a danci uncem nel guidare dei percorsi nuovi credo che il nuovo codice della protezione civile che abbiamo contribuito a scrivere l'impegno delle regioni nell'avere un quadro normativo signor presidente che definisca chi fa che cosa e dei percorsi moderni innovativi ci portano ancora una volta essere tra i più evoluti in europa con il nostro sistema di protezione civile e forse nel mondo io rimarco nei nostri piccoli comuni montani la presenza di un volontariato organizzato che è decisivo persone donne uomini che si impegnano sotto la guida delle forze dell'ordine naturalmente con tutto il sistema con la guida dei sindaci che hanno un ruolo fondamentale sono emblematici e fulcro dei percorsi di protezione e come dicevo di prevenzione vede l'abbandono della montagna dei territori delle aree interne e questo paese è un paese complesso come lei sa bene come ci ricorda spesso il nostro presidente della repubblica l'abbandono del territorio e anche l'aumento delle foreste la incapacità di gestire bene qua una superficie che ha orograficamente delle grandi complessità oggi aumenta la possibilità di rischi ieri abbiamo ricordato in piemonte l'alluvione del 1994 70 morti ogni anno abbiamo e subiamo una serie di emergenze alle quali questo dipartimento col tutto sistema guida interventi di successivi di risoluzione delle emergenze bene il codice della protezione civile noi riteniamo sia da attuare su tre fronti in particolare la prima è quella di avere dei piani di protezione civile che non sono un fascicolo che finisce in un cassetto e non è assolutamente conosciuto dai nostri cittadini deve essere uno strumento fluibile da tutti dalle intere comunità deve essere sovrapponibili con i piani regolatori e su questo una legge sul consumo di suolo per i territori montani vuole anche dire una legge che impedisce l'abbandono del suolo l'aumento del bosco 33 per cento della superficie nazionale che oggi è un problema se non gestito dobbiamo utilizzare bene i sistemi di informazione e bene ha fatto ringrazio angelo borrelli per il lavoro che sta facendo con il dipartimento sui tier alert degli strumenti che arrivano sul cellulare delle informazioni che arrivano sui telefoni alle persone che si trovano in situazioni di emergenza bene ha fatto lei presidente lo rimarco con il governo a impostare un piano proteggi italia che ha 11 miliardi di investimento d'intesa con le regioni che vanno sugli enti locali abbiamo però ancora alcune cose da fare in particolare gliene rimarco due una di aiutare i sindaci sgravandoli da una serie di responsabilità che possono diventare penali e possono arrivare a complicare l'esistenza anche personale di chi ha responsabilità amministrative ci sono sindaci che oggi stanno subendo processi e Livorno Genova Civita e altri su cui bisogna cercare di intervenire per sgravare di una responsabilità oggettiva ci sono delle proposte di legge anche che come Anci e Uncem stiamo facendo e stiamo alle quali stiamo lavorando bene gli investimenti green nella legge di bilancio per fare prevenzione bene riuscire ad attuare quella norma sui servizi ecosistemici cosa vuol dire che noi reimpostiamo un rapporto fra i territori urbani e fra i territori interni rurali e montani in una nuova coesistenza in una nuova capacità di essere in dialogo perché la prevenzione che si fa a monte diventa strumento di azione importante anche per chi sta valle e l'intera collettività i comuni montani 3850 comuni sono a disposizione e sono parte io spero attiva e forte di un sistema di protezione civile che cresce signor Presidente grazie grazie dottor bussone prende ora la parola il presidente del consiglio dell'associazione nazionale comuni italiani avvocato enzo bianco signor presidente desidero anzitutto ringraziata di cuore a nome dei sindaci e comuni italiani per la sua presenza oggi qui sappiamo che ci sono mille emergenze anche molto delicate dal punto di vista economico del paese il fatto che lei abbia mantenuto il suo impegno in una giornata come questa in cui c'è anche un valore simbolico con quello che è accaduto ad alessandria per noi a particolare valore lo ha per chi ogni giorno in italia difende il suo territorio cercando di amministrare nel migliore dei modi in mezzo a mille difficoltà sarò brevissimo anch'io per ovvie ragioni innanzitutto bene signor direttore della protezione civile questa idea di riunire periodicamente tutti i soggetti interessati alla protezione civile guardate chi come me ha una lunga esperienza in questa materia essendo anche stato per un periodo ministro della protezione civile oltre che ministro dell'interno sa perfettamente presidente che lo spirito di squadra è importantissimo è fattore di successo in qualunque momento soprattutto nell'affrontare le emergenze se la logica è quella della scaricare la responsabilità su qualcuno naturalmente siamo tutti bravi e poi chi paga e chi sta più in basso nella scala gerarchica qui c'è bisogno di uno spirito di squadra riunire attorno a un tavolo periodicamente tutti i soggetti interessati le amministrazioni dello stato competenti le forze armate le forze di polizia i vigili del fuoco le regioni i comuni è davvero molto 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 importante la seconda considerazione bene molto bene quest'idea che sta portando avanti la protezione civile di un sistema di allertamento di allerta nazionale unitario gestito sulla base di competenze tecniche troppo spesso capitano nel paese problemi qualche volta persino simpatici divertenti come quello di una regione che quando fu deciso di passare da un sistema di allertamento in quella regione a cinque livelli di allerta a uno più semplice a tre si inventò per scaricare la responsabilità sul livello più basso un'allerta arancione tendenzialmente rosso nell'avverbio tendenzialmente lei capisce bene c'è tutta la preoccupazione che se succede qualcosa poi la responsabilità e chi ha interpretato tendenzialmente in un modo piuttosto che in un altro allora bene che ci sia un sistema di allertamento nazionale speriamo che nel giugno del 2020 possa diventare operativo questa vicenda di allertamento deve essere gestito da chi ha competenze tecniche in materia in modo adeguato i sindaci nel territorio poi devono allertare naturalmente sulla base del dei piani di protezione civile comunali e di emergenza la loro competenza una questione specifica presidente la terza e concludo c'è il tema della continuità amministrativa quando c'è qualche problema serio di protezione civile l'ho visto anche nella mia città a Catena ma questo riguarda tutti ci sono tecnici che sono disponibili che partono e che vanno a dare una mano con straordinaria generosità qualche volta addirittura spostandosi a spese proprie c'è un problema di definizione normativa perché oggi se tu mandi un tecnico dal comune di Rocca Cannuccia in un posto in cui c'è un'emergenza si corre persino il rischio di avere una responsabilità amministrativa o contabile la cosa può essere definita in modo serio c'è un principio di continuità amministrativa che va affermato e che deve essere tradotto in realtà un'ultima considerazione consentitemi uno sfogo di carattere generale appena succede una disgrazia del nostro paese oggi lo sport preferito a partire dai mass media ma anche di una parte dell'opinione pubblica è chi è responsabile questo sta diventando un problema davvero molto serio la ricerca affannosa prima ancora di dare una mano a chi sta aiutando in quelle condizioni di cercare subito responsabile da additare all'opinione pubblica come una sorta di mostro sta diventando veramente una cosa molto grave non ho una soluzione per un problema così delicato ma certo c'è un problema di comunicazione è un problema di dare serenità a chi ogni giorno nel territorio interpreta la sua responsabilità come un dovere e lo fa con straordinaria generosità in modo assolutamente attento va premiato per questo anziché essere additato irresponsabilmente come qualche volta responsabile di qualcosa grazie e buon lavoro grazie avvocato bianco prende ora la parola l'assessore con delega la protezione civile della regione emilia romagna dottoressa paola gazzolo buongiorno presidente e un saluto al capo dipartimento e a tutte le componenti del sistema di protezione civile è un privilegio poter intervenire un privilegio esprimere rinnovare il cordoglio per alle famiglie del dei vigili del fuoco dei feriti e delle vittime di questa grande tragedia dell'alessandrino e poche pochi minuti per fare due brevi considerazioni salutando anche i colleghi assessori che all'interno della commissione speciale di protezione civile condividono la quotidianità dell'implementazione di un sistema quello di protezione civile che credo sia un esempio per tutto per tutto il paese e non solo uno dei rari luoghi dove lo stesso codice nazionale di protezione civile ha visto un voto all'unanimità indipendentemente dall'appartenenza politica e indipendentemente e anzi e dipendentemente dal volere e dalla capacità e dalla determinazione di tutte le componenti che vi si ritrovano compresa la stessa comunità scientifica e due considerazioni una in particolare il tema legato alla discussione di queste delle nostre della commissione dei confronto fra regioni in particolare sull'aspetto delle competenze ora io credo questo che il documento che ci è stato proposto durante questa settimana della protezione civile che anch'io mi auguro diventi una tradizione che le regioni hanno sostenuto e con penso anche con un grande sostegno un grande lavoro e il documento che ci viene proposto richiama a indirizzi operativi molto positivi it alert che noi stiamo sostenendo ovviamente supportandolo con gli elementi di pianificazione di sistema così come riconduce il documento stesso della giornata di oggi e in particolare il grande obiettivo che si pone e si pone questa conferenza legandolo all'obiettivo di resilienza di riduzione del rischio e di gestione del rischio stesso guardando a ricomporre sostanzialmente nella parola resilienza la capacità di agire in prevenzione e la capacità di esserci durante l'emergenza e nel post emergenza allora io credo che sia proprio il compito delle regioni lo snodo fondamentale per raggiungere l'obiettivo di resilienza e di gestione del rischio e riduzione del rischio quindi siano siano proprio le regioni dove si riconduce sostanzialmente nelle politiche regionali esattamente si riconducono tante competenze che guardano a ridurre e a mitigare e ad adattare le politiche al cambiamento climatico e guardano esattamente al tema dello sviluppo sostenibile che ci viene proposto come appunto obiettivo di cui anche protezione civile fa la sua parte allora se questo è vero poiché le autorità di protezione civile oltre a quelle tecniche ma le autorità diciamo politiche da codice sono il presidente del consiglio dei ministri i presidenti di regione e i sindaci della nostra del nostro bel paese è evidente che ci sono alcune tematiche che devono essere affrontate la prima bene il proteggi italia bene aver definito sia un risorso per la prevenzione ricomponendo la filiera dell'emergenza della prevenzione però da questo punto di vista importante che queste risorse siano ampliate in prevenzione nella prevenzione strutturale e in questo rinnoviamo rinnovo anche a nome dei colleghi la necessità di aumentare le risorse pluriannali per la prevenzione anche con l'utilizzo dei fondi bay la seconda così come non entro nel dettaglio mi scuserete per esigenze di tempo do i titoli la seconda molto importante il post emergenza bene aver inserito con il comma 1028 e con il con la legge fiscale aver inserito risorse in particolare col comma 1028 della legge finanziaria 2018 avere inserite risorse per il post emergenza molto bene però bisogna proseguire perché evidente che quelle sono risorse che hanno guardato a un periodo di eventi importanti complessi difficili a cui tutti noi che tutti noi ricordiamo ma in un periodo di un anno e mezzo dal giugno 2017 al dicembre 2018 avendo funzionato quel programma come regioni abbiamo fatto la nostra parte in tempi molto celeri affinché queste risorse venissero realmente impegnate utilizzate credo che anche lì dovremmo ampliare queste risorse e poi un altro tema che mi scusi presidente se parlo di risorse ma poi le risorse accompagnano i buoni le buone politiche e l'altro aspetto che va sottolineato è legato al cambiamento climatico cambiano gli eventi e il codice di protezione civile anche nella 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 consentire poi alla presenza del consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale non consente di inserire alcune nuove tipologie di eventi in questa dichiarazione allora io credo che anche questo lavoro che si deve probabilmente verificare da una parte l'adeguamento l'adeguatezza stessa del codice al cambiamento climatico ma abbia oggi la necessità di una risposta che è proprio del codice e che prevedeva in capo alle regioni la destinazione di risorse per l'istituzione ma soprattutto per l'operatività del fondo regionale di protezione civile allora in assenza del finanziamento del fondo regionale di protezione civile o il dipartimento e la presenza il consiglio dei ministri come dire si fa carico di ampliare la gamma degli eventi penso per quel che riguarda la mia regione alla all'evento importante di milano marittima noi milano marittima ma poi evento che nel mese di luglio si è ovviamente ha toccato l'adriatico sino alla puglia l'esempio di milano marittima che è andato su tutti i giornali come un esempio virtuoso perché grazie al potenziamento del sistema siamo riusciti a intervenire prontamente credo mitigando straordinariamente con la nostra comunità gli effetti di quella potente tromba d'aria marina evento che però non può essere contemplato per i criteri che sono definiti nel codice all'interno dello stato di emergenza nazionale allora dell'una o l'altra perché è evidente che la istituzione del fondo di protezione civile con la disponibilità anche delle regioni di cofinanziarlo perché noi regioni continuiamo a cofinanziare con risorse regionali e ovviamente cercando di implementare ciò che chiedono le nostre comunità ciò che chiede il sistema di protezione civile e trova in questo fondo regionale di protezione civile sia la capacità di potenziamento del sistema da una parte e trova e può trovare anche la capacità di come dire di diventare vere e proprie azioni di adattamento al cambiamento climatico io la chiamo così perché ci si adatta esattamente con strumenti flessibili capaci che hanno la da questo punto di vista possono ottenere il grande risultato di rispondere alla alle richieste anche dei nostri comuni che chiedono di non essere mai lasciati da soli e in questo in questa grande sfida che abbiamo davanti quindi ho davvero ringrazio per questa giornata e e spero che davvero sia la giornata che possa già da questa stessa legge di bilancio la prossima legge di bilancio colmare quel tovulnus e guardare a una una programmazione di risorse davvero pluriennali certe nel tempo capaci di guardare come ha fatto come è stato fatto in questi anni contemporaneamente ad essere più efficaci in prevenzione e a poter anche dare risposte importanti e significative noi regioni credo che abbiamo potenziato il sistema e in tanta parte del paese e ne siamo particolarmente orgogliose grazie grazie dottoressa gazzolo prende ora la parola il presidente della regione abruzzo dottor marco marsilio grazie dell'occasione dell'opportunità potremmo dire che se uno dei temi intorno ai quali si sviluppa la settimana della prevenzione della protezione civile è quello di della resilienza l'abruzzo può agevolmente candidarsi per ragioni note ad essere come dire regione di riferimento per questa su questo tema e su questa virtù la somma di eventi e di cataclismi che ha colpito la nostra regione quantomeno nell'ultimo decennio non c'è bisogno qui di andarla a riassumere ed è per questo anche per questo che abbiamo dato al tema della protezione civile una priorità importante nell'azione di governo della nostra regione io ho trovato una organizzazione della protezione civile credo inquadrata in maniera inefficace e potenzialmente anche inefficiente rispetto alla gestione delle emergenze perché ad oggi la protezione civile nella regione è inquadrata con tre distinti servizi all'interno di un dipartimento più ampio che si occupa di urbanistica gestione del territorio energia ambiente per tale ragione abbiamo presentato proprio per adeguarci anche alle migliori pratiche delle altre regioni e le linee guida del dipartimento nazionale una proposta di legge per istituire un'agenzia di protezione civile che garantisca come dire una maggiore capacità di azione autonomia di decisione prontezza operativa in caso di emergenza oltre che un lavoro più coordinato e più ampio di previsione e prevenzione quindi da questo punto di vista il Consiglio regionale dell'Abruzzo è oggi investito di questa della trasformazione di questa proposta di legge che l'Aggiunta ha già approvato e spero che a breve prima di alla fine di questo anno solare possiamo come dire presentare nel sistema nazionale di protezione civile anche un passo in avanti nella organizzazione della nostra regione mi associo alle osservazioni fatte da chi mi ha preceduto rispetto a tutta una serie di necessità anche economiche purtroppo economiche perché come dire appunto le cose si possono fare se sono anche sostenute e mi faccio anche portavoce per quanto riguarda il nostro territorio caratterizzato da una presenza di piccoli e piccolissimi comuni montani della difficoltà che questi hanno nel come dire adempiere alla legge quando vengono richiamati al dovere di dover adottare i piani comunali di protezione civile rispetto ai quali comuni che oggi faccio presente che in particolare nella nostra regione due terzi dei comuni non hanno neanche il segretario comunale gran parte di questi piccoli e piccolissimi comuni hanno una struttura amministrativa fatta quando va bene di un geometra e mezzo ragioniere condiviso magari con il comune vicino e quindi chiedere che professionisti in possesso di adeguate competenze possano e debbano sviluppare piani e questo non avviene gratuitamente quindi anche qui credo che un aiuto dello Stato centrale quando chiede uno sforzo a tutta Corale a tutte le sue articolazioni ad affrontare in maniera efficace perché altrimenti sconteremo i ritardi e anche nella nostra provincia i prefetti hanno dovuto come dire rappresentare il ritardo perché la percentuale di comuni che sono stati in grado di adeguarsi alle prescrizioni di legge è stata molto bassa ma io voglio spezzare una lancia in loro favore non perché ci sia disinteresse e disattenzione perché anzi il fatto che la legge dal 2018 impone sui sindaci oltre che sui presidenti delle regioni la responsabilità di essere il capo della protezione civile quindi come dire si va a dormire la sera sperando che non grandini e che non nevichi e che non accada qualche esondazione perché le responsabilità che gravano sulle spalle delle amministrazioni sono molto molto serie e quindi anche su questo dobbiamo attrezzarci ed è in questo senso che io pure rilancio e rinnovo è stato già accennato prima la necessità di dare una piena valorizzazione all'articolo 45 del codice della protezione civile che istituisce questo fondo regionale che da troppi anni non viene finanziato e che ci consentirebbe magari anche di affrontare quelle categorie di eventi rispetto ai quali poi diventa difficile farsi riconoscere a livello nazionale uno stato di emergenza e un contributo faccio riferimento a un caso particolare che ha coinvolto molte regioni quasi tutte le regioni della costa adriatica il 10 luglio sono state tempestate da un evento catacrismatico noi abbiamo avuto sulla costa abruzzese una grandinata con chicchi di grandine che erano grandi come palle da baseball è mancato poco di avere delle vittime proprio per quanto è stata violenta ha scoperchiato tetti tutte le scuole di alcune delle città della costa sono stati scoperchiati fortunatamente era estate e quindi come dire abbiamo avuto il tempo di ripristinare in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico fosse avvenuto durante diciamo la stagione scolastica l'evento avrebbe avuto conseguenze molto molto più devastanti tuttavia questo tipo di evento non è riconosciuto e ci è stato negato proprio in questi giorni dal dipartimento nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza e quindi di un qualunque contributo pensando che su eventi di questa caratteristica e di questa violenza si possa far fronte con le risorse ordinarie delle amministrazioni comunali e delle amministrazioni del territorio ecco io credo che da questo punto di vista ci sia sicuramente qualche cosa da correggere da integrare non so se nell'immediato sia possibile faccio appello approfittando della presenza del presidente del consiglio oltre che del capo del dipartimento nazionale anche perché l'argomento lo affronteremo domani in conferenza delle regioni con le altre regioni interessate a individuare comunque o a rivedere questa decisione o comunque individuare una forma di contributo perché i danni rilevanti che si sono prodotti possano essere affrontati e comunque credo che prevedere diciamo in maniera più strutturale il finanziamento di un fondo che esiste che per legge esiste e che da questo punto di vista c'è una non adempienza da parte dello Stato nei confronti di una previsione normativa condivisa ecco noi diciamo sentiamo l'urgenza e sottolineiamo l'urgenza di affrontare e risolvere anche questo tema grazie grazie dottor marsilio prende ora la parola il presidente della provincia autonoma di Bolzano dottor arno compaccia signor presidente autorità tutte il mio contributo sarà brevissimo due i miei ragionamenti uno ovviamente valuto molto positivo l'approccio che si è dato anche con la settimana nazionale della protezione civile ringrazio il presidente per la direttiva l'approccio proprio che vuole valorizzare anche diciamo il senso civico e soprattutto anche sensibilizzare ma non solo informare i cittadini ma soprattutto renderli attivi anche quando ci sono gli eventi lo dico da presidente della provincia autonoma che ha competenze in materia che ha un sistema che forse si discorso un attimino da quello nazionale del paese abbiamo un sistema basato soprattutto sul volontariato sono oltre 30 mila persone in una provincia con 500 mila persone che operano il settore della protezione civile nelle associazioni di volontariato i vigili del fuoco oltre 13 mila persone ovviamente la croce bianca la croce rossa e il soccorso alpino questo sistema ci permette non solo di avere un sistema molto capilare in ogni paese in ogni piccolo borgo c'è ovviamente ci sono i vigili del fuoco c'è anche ovviamente il soccorso della croce bianca la croce rossa ma non solo siccome quasi in ogni famiglia c'è una persona che comunque già coinvolta nel sistema come membro di un'associazione c'è anche questa resilienza che si vuole creare proprio questa partecipazione attiva e consapevole dei cittadini in caso di eventi e questo credo che sia un approccio proprio giusto che premierà sicuramente un intero sistema secondo ragionamento la standardizzazione ovviamente abbiamo sentito questa ricerca canita come ha detto bianco prima diciamo del colpevole in caso di eventi ci porta a sempre avere di più anche un interesse avere dei protocolli delle standardizzazioni per le scelte in caso di eventi anche per proteggere chi fa queste scelte però forse non dobbiamo esagerare perché l'evento non si presenta mai come è stato previsto in teoria bisogna sempre lasciare un margine anche le persone che poi si assumono questa responsabilità e fanno la scelta e bisogna proteggerle in modo un attimino diverso non solo con i protocolli standardizzati se no ci ingessiamo e ci leghiamo le mani questo è il mio diciamo avvenimento giusto avere di standard anche e soprattutto fare un sistema che funziona come sistema paese però poi lasciare margine a chi deve assumersi la responsabilità e speriamo che ci siano ancora queste persone nel caso concreto grazie e buona conferenza a tutti grazie dottor Compacer prende ora la parola il presidente della provincia autonoma di Trento dottor Maurizio Fugatti signor presidente del consiglio dei ministri dottor Borrelli capo della protezione civile tutte le autorità presenti e di protezione civile noi abbiamo l'onore anche di avere il ruolo di coordinamento e io mi sono trovato e voglio ringraziare subito il dottor Borrelli che non era nemmeno stato proclamato eletto nell'ottobre scorso eravamo nella fase diciamo di passaggio ed abbiamo avuto la più pesante tempesta diciamo quasi di sempre del nostro territorio che ha coinvolto anche l'Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia il Veneto e la Lombardia e voglio ringraziare il pronto intervento che il dottor Borrelli aveva avuto nei nostri confronti in quella fase in cui la forte mole di danni che c'è stata, un piccolo territorio come il nostro 500.000 abitanti ha avuto circa 370 milioni di danni vogliamo ringraziare il presidente del consiglio per essere intervenuto sul nostro territorio come sugli altri territori con un forte intervento di attenzione anche finanziaria che non era per i momenti che ci sono sicuramente né facile né scontato ma in quei momenti si è visto soprattutto quanto è importante per i territori e lo ha detto anche chi mi ha preceduto la necessità di investire sulla sicurezza, sulla prevenzione sulla tutela ambientale che è anche un messaggio di sostenibilità perché risorse investite oggi sulla sicurezza e sulla tenuta del territorio sono sicuramente risorse risparmiate domani nel momento delle emergenze 1 milione di euro in più messi sulla tutela del territorio sono sicuramente risparmiati pro futuro al di là della sicurezza e quindi credo che sicuramente in un momento di difficoltà economica gli sforzi che le regioni, le province ottoniche e il governo stanno facendo sono importanti dobbiamo cercare anche canali di finanziamento alternativi rispetto al solito su questo versante perché ne va anche della sicurezza dei territori di chi deve rimanere a vivere in montagna come ha detto anche il Presidente Marsiglio vivere nei piccoli comuni di montagna rischi lo spopolamento se non investi risorse che permettano a quelle persone di continuare a vivere lì ma vivendo lì ti garantiscono anche la sicurezza di quei territori quindi questo è un tema centrale che riteniamo abbiamo noi ma deve avere anche ed ha sicuramente a cuore chi governa il nostro paese collegato al sistema forte dell'attenzione alla protezione civile questa organizzazione della settimana della protezione civile che anche noi abbiamo fatto nell'attenzione ai giovani nell'attenzione nelle scuole portare il tema della protezione civile all'interno delle scuole all'interno anche dell'educazione magari civica scolastica va in questa direzione perché se nel futuro perderemo l'attenzione dei giovani verso il sistema di volontariato e di protezione civile sarà sempre più un costo che sarà a capo delle regioni e dei governi che si succederanno il tema del volontariato è centrale ed è centrale quanto ha detto il Sindaco Bianco il Presidente Bianco non dobbiamo scoraggiare i volontari di fronte a iniziative particolari di altri organi che poi dicono vabbè allora vado a fare volontario se rischio del mio nel momento in cui ci metto la mia solidarietà il mio volontariato e la mia passione e il mio anche tempo libero quindi grazie per questo momento che avete organizzato che lo sia utile per tutti e sicuramente per il nostro sistema di protezione civile e di volontariato Grazie anche al Dottor Fugatti prende ora la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri Buongiorno a tutti io faccio un saluto permettetemi riassuntivo e complessivo a tutte le autorità non vi posso menzionare partitamente perché siete numerose e questa è una delle prime ragioni che mi spingono a congratularmi per questa iniziativa a vedere tanti volte autorevoli presenti tanti soggetti stakeholders interessati coinvolti qui per questa prima conferenza è un motivo che mi spinge a sottolineare l'importanza di questo evento è stato ricordato che anche la settimana nazionale della protezione civile è la prima volta che si svolge istituita con direttiva del primo aprile scorso non era un pesce d'aprile ma era la testimonianza di una sensibilità e di un progetto al quale stiamo lavorando di massima sensibilizzazione della comunità nazionale sul piano della informazione della comunicazione della condivisione del consolidamento delle buone prassi e di linee strategiche di azione alla base di questo sistema di questo sistema integrato che è la protezione civile dobbiamo confrontarci dobbiamo dialogare dobbiamo ascoltare e dobbiamo collaborare questo è il primo punto oggi io sono dispiaciuto perché ahimè sto un po' comprimendo diciamo non solo il mio intervento ma ho rischiato un po' di comprimere anche qualche vostro intervento però spero che al di là della mia presenza dovrò allontanarmi perché ci sono urgenze nazionali che mi chiamano al dovere al tavolo a Palazzo Chigi spero che possiate continuare i lavori con la massima distensione perché questo momento questa conferenza è importante dobbiamo come dire acquisire ancora e lasciare sedimentare quella che è la cultura della protezione civile e noi stessi che ne siamo parte che alimentiamo questa cultura quindi dobbiamo passare qui del tempo per cercare di affinare meglio il raggio dei nostri interventi e le linee strategiche della nostra azione e l'importante è importantissima in questa prospettiva la prevenzione è importantissima la formazione perché si diffonde in Italia la cultura della riduzione dei rischi prevenire quindi e pianificare e programmare sono i migliori alleati poi questo significa quindi inoltrarsi lungo un sentiero della standardizzazione di protocolli di azione di linee definite di azione poi certo c'è sempre l'imprevisto c'è sempre il momento in cui ci sarà la singola autorità che dovrà confrontarsi e poi assumere una responsabilità però è chiaro che dobbiamo elaborare e affinare sempre più le migliori pratiche e le best practices dobbiamo sempre più confrontarci e cercare di predisporci per sviluppare una linea di prevenzione e quindi cercare di sollecitare la massima resilienza delle comunità locali la campagna io non rischio da questo punto di vista è stato un grande successo 850 piazze 8.000 operatori volontari 4.000 e forse anche oltre cittadini coinvolti i numeri sono molto significativi non sono delle gocce gettate in un mare ben più ampio sono delle iniziative che dovremmo ripetere dobbiamo lavorare come dobbiamo lavorare e anche stiamo lavorando e da questo punto di vista è molto significativa anche il fatto che la legge dello scorso agosto consente anche di riportare l'educazione civica alle scuole dobbiamo lavorare diciamo nelle scuole dove sicuramente la protezione civile deve essere un argomento di dialogo di conversazione tra docenti e discenti con gli allunni e coinvolge quindi i cittadini sin dai banchi di scuola anche perché dico la verità nella esperienza che ho sin qui maturato ormai sono diversi mesi 17-18 mesi come a capo dell'esecutivo devo dire che i giovani sono sicuramente una risorsa vanno subito coinvolti e motivati in questo progetto dobbiamo dar loro gli strumenti per afferrare in padronisti della cultura della prevenzione per potersi difendere dalle emergenze i giovani ci consentiranno investendo su di loro di creare un'Italia più consapevole un'Italia più responsabile più serena anche più convinta dei propri mezzi io sono fiducioso perché lavoro col Dipartimento della Protezione Civile e conosco il sistema integrato della Protezione Civile sono state tantissime tragedie abbiamo affrontato tantissime emergenze alcune le avete menzionate nei vostri interventi quindi operativamente ho verificato con mano l'efficacia dell'intervento l'immediatezza la incisività di questo sistema direi anzi che per certi versi lo possiamo dire senza falsa modesta è anche un modello all'estero dove ci confrontiamo dove spesso veniamo chiamati e sollecitati a intervenire e ad aiutare e qual è la forza di questo sistema? La forza di questo sistema è sicuramente il fatto che è integrato è integrato infatti la conferenza nazionale riguarda le autorità di protezione civile quindi ogni volta c'è un'emergenza ci sono vari soggetti che sono coinvolti e tutte le varie componenti tutte le autorità coinvolte riescono a dialogare riusciamo a dialogare riusciamo a dialogare secondo protocolli ormai collaudati e dietro il sistema della protezione civile non solo ci sono le autorità di riferimento non solo ci sono i corpi i vigili e tantissimi i vigili del fuoco e tanti altri ci sono tante competenze ci sono ingegneri geometri geologi agronomi periti industriali ci sono tanti anche volontari e nel 1966 erano gli angeli del fango oggi sono semplicemente persone migliaia che facendo riferimento a delle organizzazioni varie di volontariato dedicano il loro tempo libero e delle volte ne fanno un'occupazione ben più impegnativa gratuitamente a questo spirito di solidarità a questa forma di altruismo che parte integrante di questo sistema questa è l'Italia migliore diciamocelo perché è l'Italia che riesce a far sistema l'Italia che riesce a mettere su non solo le competenze professionali ma anche gli slanci solidaristici creando un meccanismo integrato assolutamente efficiente sul piano operativo se riuscissimo a riprodurre il sistema della protezione civile lo dico da decisore politico in tanti altri ambiti con questa capacità di dialogo di confronto con questo meccanismo collaudato di sintesi con questa efficacia operativa noi potremmo come dire dilatare enormemente e rafforzare enormemente la nostra efficacia operativa ci sono state tante tragedie in questo periodo in questi ultimi tempi io ricordo non possono menzionare la tragedia del Ponte Morandi la tragedia del torrente Raganello poi ci sono state violente ondate di maltempo l'anno scorso soprattutto sono state ricordate tra ottobre novembre da Belluno a Casteldaccia poi ancora più di recente ci sono state due alluvioni nell'Alessandrino sono stato lì si una tarda sera con appunto col sistema della protezione civile dove ci siamo confrontati e ovviamente non possiamo non ricordare anche e non rendere un doveroso omaggio abbiamo fatto prima anche nel minuto di silenzio ai tre vigili del fuoco che sono rimasti uccisi nell'Alessandrino chiamiamoli per nome ricordiamo i loro nomi Antonio Antonio Candido Marco Triches Matteo Castaldo c'è anche un mariti padri amorevoli che hanno perso la vita in questo incidente forse un attentato la magistratura indagherà e confidiamo che quanto prima se ci sono dei colpevoli avranno un nome e un cognome ecco parlando dei vigili del fuoco peraltro ne approfitto pubblicamente siamo perfettamente consapevoli delle richieste che provengono da parte dei vigili del fuoco li ha incontrato incontrato i sindacati in un quadro di finanza pubblica faremo il possibile per accogliere le loro richieste abbiamo già dato un primo segnale so che questo segnale che abbiamo dato non è ancora ritenuto sufficiente ma posso assicurare che il governo lavorerà perché doverosamente ci sono delle legittime richieste e dobbiamo tenerle presenti faremo il possibile e confido che ce la faremo vi lascio vi lascio ricordando che sempre nel quadro della prevenzione del rendere ancora più resilienti le nostre comunità la comunità nazionale le comunità territoriali abbiamo lavorato e confidiamo di implementare quel programma che abbiamo definito proteggi Italia l'abbiamo varato all'inizio dell'anno è stato anche menzionato negli interventi che mi hanno preceduto e sicuramente anche quello vuole segnare in qualche modo una svolta la volontà cioè di uscire dalla logica emergenziale e di puntare sulla logica della prevenzione è un piano per la prima volta abbiamo cercato di ricomporre in unità e di definire rispetto a una linea strategica un piano di interventi per assicurare maggiore il contrasto del distesso idrogeologico e la prevenzione delle calamità è un piano che ha cercato ha aggiunto anche ulteriori risorse chiaro che il problema delle risorse esiste sempre e capisco anche gli interventi che sono stati fatti per quanto riguarda alcuni fondi regionali territoriali ma abbiamo non solo aggiunto ulteriori risorse abbiamo cercato anche di risistemare per così dire riordinare le risorse risorse esistenti perché in modo da poter coordinare meglio la nostra azione semplificare investire utilizzare più efficacemente le dotazioni finanziarie di cui già in parte anche cospicue disponiamo quel piano protegge Italia di questo inizio anno è un piano quindi che va rafforzato e già i numeri che si inquadrano nell'ottica dell'attuazione di quel piano sono significativi li voglio ricordare in questa occasione 30 piani degli investimenti delle regioni delle province autonome di Trento e Bolzano 6.638 interventi programmati in corso di attuazione 1.274.000 euro previsti 10 commissari delegati regionali 2 presidenti delle province autonome 6 soggetti responsabili 1.649 soggetti attuatori ecco oltre a questo piano poi il capo della protezione civile Borrelli che ringrazio anche per aver organizzato questa iniziativa insieme a tutti gli altri uomini della protezione civile ci parlerà del piano interventi nazionali e del sistema IT alert e un tentativo ulteriore anzi più che un tentativo di un progetto strutturato per rendere ancora più efficace la cultura della prevenzione e le prassi utili come dire a intervenire e a reagire in modo immediato efficace rispetto alle calamità e alle emergenze noi dobbiamo attraverso questo piano raggiungere il più alto numero possibile di cittadini metterli in condizione di poter rispondere a quelli che riteniamo i protocolli più affidabili di reazione e per far questo quindi non c'è nulla di meglio addirittura che raggiungerli attraverso messaggi su smartphone su cellulari e il modo più immediato credo molto in questo piano e confido che poi sarà illustrato nei dettagli io vi ringrazio scusate se ho compresso un po' i vostri lavori ma vi auguro buon proseguro di lavori e davvero ringrazio tutti perché tutti siamo partecipi in misura assolutamente paritetica di questo piano non c'è o c'è un presidente del consiglio perché ha un incarico c'è un capo della protezione civile ma la protezione civile siamo noi siamo tutti noi sono anche tutti i singoli volontari che intervengono di volta in volta grazie grazie a tutti grazie a tutti ecco ricordo che i lavori della conferenza si concluderanno con l'intervento del dottor Borrelli come aveva anticipato tra l'altro all'inizio dei lavori a rientro in auditorium quindi vi prego di non lasciare i vostri posti grazie a tutti 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 credo che sia stato per noi comunque un grande risultato avere qui il presidente del consiglio dei ministri nonostante tutti i suoi impegni allora possiamo partire con la presentazione aspettate me la devi rimettere all'inizio perché siamo scusate ferma che andavo di là allora abbiamo fatto scherzetto prima al nostro Fabio Dattilo ecco qua io avevo una presentazione avevo un video voglio ringraziare intanto tutti quanti voi perché abbiamo nella settimana della protezione civile ognuno di noi con le nostre organizzazioni con le nostre strutture fatto in modo che nel nostro paese crescesse la cultura della prevenzione della resilienza avevo una serie di slide in cui ringraziavo ognuno di voi a partire ovviamente dalle regioni del provincio autonome le strutture operative le nostre comunità scientifiche agli ordini professionali poi ho tagliato il nostro volontariato vedo qui Patrizio Losi che ringrazio ho tagliato e ho sintetizzato in pochissime slide salto la prima salto la seconda che la conosciamo tutti quanti anche la terza perché la nostra attività è un'attività integrata nell'ambito di quella che è la politica globale di riduzione del rischio allora spegniamo l'aria condizionata perché per me va bene così ma ammazziamo il governatore Tome e tutti quanti gli altri quindi se possiamo un attimo chiudere l'aria condizionata grazie questo è un applauso meritatissimo grazie a Donato hai fatto benissimo le nostre azioni sono integrate il Dipartimento è capofila l'autorità nazionale per la riduzione dei rischi da disastri le nostre attività le conoscete abbiamo fatto nella sede della Confindustria c'era fino a poco fa il rappresentante di Confindustria Carlo Robiglio la prima conferenza europea della riduzione rischio da disastri che è stato un grande successo quello che stiamo portando avanti tutti quanti insieme e qui vi voglio dire relativamente alle diverse azioni partendo dalla previsione noi dobbiamo completare la nostra rete radar abbiamo ancora due radar uno in Sicilia in provincia di Trapani uno in Basilicata da poter realizzare in più vedo l'amico Ruggero Mellea qui presente in Puglia la regione si è impegnata è disponibile a integrare la rete radar è il sistema ovviamente cadendo il mouse siamo andati un po' avanti quindi dobbiamo completare la rete radar dobbiamo anche fare in modo che l'agenzia Italia Meteo sul quale stiamo lavorando con Ispra con i diversi enti interessati si possa costituire effettivamente possa entrare in esercizio dobbiamo anche finanziare gli studi potenziali di studi sui fenomeni precursori fenomeni precursori degli eventi vulcanici abbiamo ottenuto i grandi risultati perché quest'anno abbiamo avuto le eruzioni parossistiche nello Stromboli abbiamo gestito una crisi dello Stromboli che è una crisi più intensa degli ultimi 60 anni l'abbiamo gestito tutti quanti bene abbiamo anche individuato dei fenomeni precursori la dilatazione della superficie del vulcano che noi adesso osserviamo con gli strumenti dell'Università di Firenze ci ha permesso di mettere in atto una procedura di allertamento della popolazione per le esplosioni parossistiche vedo il Presidente Bianco che è di quelle terre sa benissimo quanto sia bello e pericoloso lo Stromboli quindi stiamo facendo un grande lavoro dobbiamo fare la stessa cosa per quello che riguarda lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti sappiamo tutti che i terremoti non possono essere previsti non sono prevedibili ma se mai partiamo con lo studio di eventuali fenomeni precursori a partire dalla geotermia da altri strumenti che possono essere utilizzati altri studi che possono essere condotti avanti non potremo mai arrivare al risultato che vogliamo e qui voglio ringraziare il Presidente degli NGV Carlo Doglioni che è il nostro partner su queste attività sulla prevenzione ci siamo preoccupati io mi sono preoccupato di questo tema dell'allertamento nazionale della popolazione io credo che avendo la responsabilità diretta del Dipartimento sono 17 anni che sto alla protezione civile 15 ho avuto un'altra responsabilità quella di tenere in riga il Dipartimento per quello che riguardava la parte finanziaria contabile contrattuale e devo dire che me la sono cavata perché sono ancora qui e non sto in galera quindi questo per quello che era la mia passata vita per quello che riguarda invece la responsabilità piena del Dipartimento credo che eventi come quello di Livorno quello del Raganello eventi che sono in qualche modo previsti prevedibili ci impongano di mettere in piedi un sistema di allertamento della popolazione basato su che cosa basato sulla tecnologia sugli smartphone sulle celle telefoniche il famoso cell broadcasting siamo partiti adesso lo vedremo dove arriveremo e abbiamo immaginato un sistema di allertamento nazionale ovviamente il sistema di allertamento nazionale vedete questa slide è molto complesso ma può essere sintetizzato in tre filoni di attività l'allertamento in fase preventiva e qui c'è tutta una filiera per la quale c'è chi può e ha il tempo per dover decidere e quindi disegnare qual è l'area nella quale far arrivare il messaggio di allertamento i tempi con cui diramare l'allertamento ma c'è una fase che è quella del monitoraggio del cosiddetto now casting nella quale non c'è il tempo per valutare per decidere e allora noi abbiamo immaginato che in questa fase si debba mettere in atto un sistema automatizzato e sono quelle che riguardano le onde di tsunami i temporali le eruzioni volcaniche in questi ambiti stiamo sviluppando delle procedure completamente automatizzate per arrivare direttamente al territorio togliendo dall'imbarazzo anche i poveri sindaci dico poveri perché sono senza strumenti e poi hanno la responsabilità di questa attività da questa impasse perché vi faccio un esempio ero l'anno scorso a ottobre del 2018 a Trapani perché a Trapani il giorno dopo avevamo a Poggio Leale un evento esercitativo ed ero con Luigi D'Angelo a mezzanotte e mezza mi chiama e mi dice abbiamo l'allerta tsunami perché c'è stato un terremoto in magnitudo 6.5 nel Peloponneso quindi è scattata l'allerta tsunami da Otranto a Santa Maria di Leuca tutta la Calabria orientale e la Sicilia orientale e adesso che facciamo perché noi abbiamo la direttiva per l'allertamento tsunami la direttiva prevede che noi allertiamo il reperibile della prefettura il reperibile della prefettura poi allerta i sindaci non so come non so come si è organizzato come ci arriva e il sindaco a mezzanotte e mezza non so cosa fa per informare la popolazione in questo modo noi potremo arrivare direttamente alla popolazione è un punto di partenza perché ovviamente noi dovremo immaginare anche di affiancare ai telefonini la possibilità di utilizzare anche i telefoni fissi per chi non ha un telefonino dovremmo immaginare anche quelle aree del paese in cui c'è il digital device cioè in quelle aree come a casa mia dove sono nato e torno qualche volta dove non prende il telefonino e io per poter essere rintracciato ho dovuto mettere un punto radio e ringraziare qui ringrazio Carmelo Tulumello il collega della Regione Lazio perché ci siamo appoggiati sulla rete radio della Regione Lazio per consentirmi di arrivare e di avere le notizie attraverso le comunicazioni generali questo sistema può essere utilizzato anche in fase di emergenza e quindi in pieno evento in corso previsto o verificatosi in modo anche di evento generico l'evento è quello della caduta di un satellite si disegna la poligonale e si inviano i messaggi di allertamento voglio ricordare chiudendo su questo sistema che questo è un punto di partenza è un sistema che mettiamo a disposizione e credo che lo dovremmo fare lo dico all'amico Matteo Piantedosi può essere utile per scopi di sicurezza per chi gestisce la sicurezza nei territori c'è un folle un attentato dei terroristi qualcuno che gestisce la sicurezza può comunicare direttamente con i cittadini in quell'ambito perché riesce ad arrivare a individuare le celle telefoniche sul quale far arrivare il messaggio oppure i sindaci perché i sindaci che oggi tra l'altro permettetemi di dirlo sono vessati da società private che fanno un lavoro encomiabile perché prima non ci aveva pensato lo Stato ma che da quando noi ci stiamo pensando mi vedono come dire il bersaglio da annientare vanno e mettono a disposizione la possibilità di comunicare col cittadino il sindaco che deve gestire il territorio piazza Cavour una manifestazione il sindaco entra nel suo sistema e manda il messaggio quando vuole a chi vuole per dire attenzione se vi trovate a passare volete venire da queste parti a piazza Cavour e piazza Cavour è chiusa quindi è un lavoro che stiamo facendo il percorso che noi abbiamo immaginato abbiamo alla firma il dpcm contenente da regole tecniche entro gennaio marzo i gestori della telefonia qui voglio ringraziare i gestori della telefonia i rappresentanti degli operatori telefonici perché si sono presi un carico anche finanziario di ammodernare le loro tecnologie partecipare al sistema c'è stata una norma di legge nei confronti della quale loro non hanno fatto obiezioni si sono assunti anche oneri economici per mettere in piedi il sistema compreranno le appiarecchiature noi saremo pronti a operare a partire dal mese di marzo fine marzo noi faremo la sperimentazione andremo a trattare a fare le prove di test direttamente sulla popolazione le prove le abbiamo già fatte c'è qui Cosimo Versace della fondazione Cima aveva realizzato un filmato non so se questo filmato lo possiamo far vedere visto che è isperata la cosa preparati pure tu Giovanni perché anche tu poi ci farai vedere due minuti anche questo è un minuto abbiamo fatto un filmato di un minuto per far vedere come funziona abbiamo fatto i test a Savona voglio dire che è qui ringraziare i nostri centri di competenza della comunità scientifica voglio ringraziare il professore Gabriele Scarascia Pugnozza e Roberto Reficini e tutti quanti componenti della Grande Rischi perché abbiamo nella commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi un grande supporto come dipartimento e nei centri di competenza abbiamo delle eccellenze italiane che esportiamo in tutto quanto il mondo io vado avanti poi quando siamo pronti con questo filmato lo facciamo vedere per fare questa attività noi dobbiamo lavorare sulla pianificazione di protezione civile una pianificazione che deve essere integrata deve utilizzare degli standard comuni dobbiamo utilizzare la nuova tecnologia la mia idea è la standardizzazione dei piani aiutando anche i comuni a mettere in piedi un piano di protezione civile porto sempre ad esempio io sono di un comune del Basso Lazio dove il comune si chiama Santi Cosme Damiano 8.000 persone 8.000 anime il sindaco ha affidato al presidente dell'associazione volontariato locale che si è costituita nel 1988 il compito di essere il delegato per la protezione civile e gli ha dato il compito di seguire fare le attività di monitoraggio di intervenire e anche di aggiornare il piano di protezione civile un piano di protezione civile su una piattaforma web GIS noi nel nostro paese come lo diceva prima il nostro Fabio Dattilo l'ingegner Dattilo abbiamo ancora la babele dei piani di protezione civile noi dobbiamo avere dei piani integrati dei piani che possono essere messi a disposizione di tutti quanti gli attori del sistema l'idea mia è lavorare investendo poche risorse ma investendo a livello centrale utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale perché se il mio telefonino con google mi dice che per andare a lavorare e non sa dov'è la sede del mio lavoro perché non gliel'ho mai detto ci metto 30 minuti noi dobbiamo avere uno strumento per cui la colonna mobile dei vigili del fuoco e dal Piemonte si sposta per andare nelle marche gli dice dove deve andare mentre si muove dove trova la popolazione e quello che deve fare quindi dobbiamo lavorare in modo sinergico facendo squadra su questo siamo pronti per far vedere il T-alert ancora no quando siete pronti me lo dite andiamo avanti l'altro lavoro che abbiamo fatto il lavoro che stiamo facendo l'ha ricordato pure il Presidente del Consiglio grazie a tutti quanti noi al lavoro nelle scuole qui voglio ringraziare anche gli ordini professionali ne parlerò pure dopo degli ordini professionali il mio amico Francesco Peduto ma anche gli ingegneri con l'iniziativa diamoci una scossa tutti gli ordini professionali fanno parte del sistema di protezione civile e noi dobbiamo rafforzare la cooperazione perché perché la rete delle professioni tecniche i tecnici sono per noi fondamentali per intervenire a supporto della gestione delle attività di protezione civile della prevenzione oltre che dell'emergenza c'è l'altra filiera la rete delle accademie della protezione civile noi abbiamo abbiamo anche il dovere di sfruttare e lo ripeterò anche successivamente quelle che sono le occasioni europee la riforma del meccanismo europeo di protezione civile ha previsto la rete dell'accademia la rete delle conoscenze noi abbiamo queste cose con la conferenza dei rettori italiani con i nostri centri di competenza con le nostre università che voglio ringraziare con il CNR vedo l'amico Fausto Guzzetti abbiamo la possibilità di mettere insieme un sistema a livello nazionale che consente di fare formazione agli operatori diversi tipi di operatori dai volontari agli operatori dei comuni agli operatori delle forze di polizia delle forze armate agli operatori delle regioni e dei comuni vi dico io ho toccato il tema della formazione e mi sono accorto che c'è un mercimonio in giro sul quale io non sono personalmente d'accordo perché soprattutto coinvolge anche persone che fanno parte del sistema se un soggetto fa parte del sistema lo fa perché è già pagato per fare quel tipo di lavoro e non perché tra le pieghe dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 è consentito fare attività di insegnamento autorizzato o non autorizzato dall'amministrazione su questo lo faremo anche qui spero di fare piazza pulita per queste cose siamo arrivati al piano protegge Italia IT alert lo vedremo forse alla fine se ci riusciranno o ve lo farò vedere dal mio cellulare per quanto riguarda il piano ne ha parlato il presidente è un vero orgoglio qui voglio ringraziare le regioni i comuni tutto quanto il sistema perché non era facile non era facile avere un finanziamento di 3 miliardi di euro e mettere in atto questo piano per gli ha citati i numeri non li ripeto il presidente del Consiglio Ministro quello che voglio ricordare è i 1609 soggetti 649 soggetti attutori è un motivo di orgoglio perché siamo riusciti a gestire questi interventi sono tutti quanti partiti voglio ringraziare anche l'ANAC Federico Dini che ovviamente ci ha supportato in questa attività e voglio anche dire che poi ne parleremo dopo noi dobbiamo anche un po' semplificare quelle che sono le regole per gli interventi di prevenzione e di gestione dell'emergenza perché se no non andiamo da nessuna parte abbiamo messo in atto Giovanni sei pronto lo faccio vedere a voi in anteprima ma poi lo faremo vedere al presidente lo renderemo disponibile avvicinati Giovanni riprendendo il nostro abbiamo mappato in modo assolutamente trasparente grazie anche ai dati forniti dall'ANAC ai dati forniti dal MEF ai dati forniti dal Dipe dal nostro Dipartimento della Politica Economica abbiamo realizzato un sistema assolutamente trasparente che metteremo online fra poco che farà vedere lo stato riepilogativo degli interventi e il dettaglio intervento per intervento ti lascio la parola hai un minuto a disposizione come era previsto un minuto con a voce o supportato elettronicamente no io volevo vedere supportato elettronicamente allora si fa così ecco avevamo organizzato ma poi ecco allora questa che vedete qua facci vedere la mappa satellitare io voglio vedere la mappa satellitare tu mi fai vedere sempre la mappa geografica basta cliccare sull'apposita icona allora qua vedete la mappa degli interventi sul territorio qui sono aggregati per l'Italia questa specie di imbuto ci dice lo stato di attuazione del piano quando io vado a cliccare su progressivamente io vedo esattamente come lo stato di attuazione si specializza a livello di regione a livello di macro regione a livello di provincia a livello di comune fino ad arrivare a livello dei singoli interventi ciascuno degli interventi è raggiungibile con una scheda in cui noi vediamo tutti i dettagli dei singoli lotti con lo stato di attuazione e quindi abbiamo una visione complessiva su questo l'applicazione è un'applicazione molto carina lo dico perché l'abbiamo fatto noi Politecnico di Milano Fondazione Politecnico ma la cosa importante è l'infrastruttura dei dati che ci sta sotto perché non passano tabelle non passano email non passa niente c'è una connessione interoperabile tra le grandi banche dati nazionali tra la banca dati della pubblica amministrazione di MEF tra la banca dati Simog di ANAC tra la banca dati MIPCUP del Dipe sono servizi web che trasmettono questi dati senza che nessuno li tocchi dal presidente del consiglio alla signora Maria al signor Mario ciascuno vede un solo numero una sola versione così come la legge della norma del 2011 prevedeva questa è la trasparenza tutti vedono un'unica versione del numero quella là un grande ringraziamento come ha già detto il capo dipartimento ai nostri partner che sono stati di una disponibilità estrema anche in maniera un po' emergenziale per aiutarci a fare questa cosa grazie grazie allora grazie adesso torniamo alla presentazione fermi che forse ce la faccio ce la potrei fare anche io ma manco per sogno ma perché l'abbiamo chiusa e allora torniamo giù siamo qua F5 fino a questo lo so fare ecco qua allora perché non me lo so a vedere F5 presentazione scusate vado avanti però devo fare presentazione vediamo se andiamo avanti intanto si vede per quanto riguarda la presentazione l'altra attività che stiamo portando avanti insieme è anche l'idea di reperire risorse per fare la prevenzione e per reperire le risorse per fare la prevenzione l'idea che abbiamo avuto sin da subito è quella di presentare un grande progetto operativo nazionale d'accordo con l'Europa quindi un progetto operativo nazionale per la prevenzione non strutturale e su questo stiamo lavorando tutti quanti insieme lavoreremo tutti quanti insieme perché anche il ministro Provenzano l'attuale ministro anche la precedente ministra che c'era erano disponibili a creare una linea di finanziamento dedicata all'attività della prevenzione c'è molto da fare per la prevenzione quindi noi lì sulla prevenzione non strutturale perché non vogliamo invadere campi di competenza di altri che riguardano la prevenzione strutturale noi possiamo fare molto e lo faremo nell'ambito del PON abbiamo anche poi presentato lo vedo e ragazzi fatemi vedere come funziona facciamo partire il video però vorrei proseguire con la presentazione allora partiamo col video itiale chiudete applausi abbiamo costruito questo è il suono internazionale che non è riconosciuto per i messaggi di serbolo a Castiglia la nuova esperienza dell'utente dei cittadini italiani che non hanno dimestitata con questo sistema sarà questo c'è un display che prende il sopravvento sullo smartphone e indica quello che è la comunicazione del messaggio ci tengo a dire due cose è vero che è stato romanzato per l'evento di oggi ma i messaggi sono veri quelli che vedete cioè a Savona grazie l'ha ricordato il capo dipartimento anche all'impegno dei gestori di telefonia abbiamo un impianto di test con una cella di riferimento che consente l'invio già di questa tipologia di messaggio quindi quelli che avete visto sono qua sono quelli veri l'altra cosa che volevo dire approfitto dell'occasione grazie Rita per ricordarvi che il giorno 14 di questo mese c'è qui in questa sala un evento in cui si sono chiamate tutte le regioni a partecipare dedicato proprio alla comunicazione del nuovo sistema verso i cittadini essendo un'esperienza nuova una cosa importante che c'è anche nelle raccomandazioni del garante della privacy è quello di comunicarlo correttamente alla popolazione affinché venga recepito nel modo corretto grazie andiamo avanti grazie Cosimo allora l'altra cosa che abbiamo fatto è io quando ho avuto modo di parlare per la prima volta col presidente Conte ho detto che volevo che chiunque avesse diretto la protezione civile nazionale lui avesse dato l'impulso e rilanciato l'attività di protezione civile perché devo dire che negli ultimi anni siamo stati un po' affiaccati affiaccati dalle procedure dagli scandali dalle situazioni che avevamo e abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro un gruppo di lavoro che ha terminato le proprie attività a fine luglio di quest'anno abbiamo proposto alcune cose che adesso vi presento la prima addirittura a agosto dell'anno scorso l'avevamo inviata per la riforma del codice degli appalti delle procedure semplificate per la gestione delle emergenze facendo ricorso a strumenti dei quali gli accordi quadro c'è un tema ve lo dico subito lo dico all'amico Federico Dini che più volte è il mio bersaglio di queste cose noi abbiamo realizzato le soluzioni abitative di emergenza per me è stato un grande flop avere una ditta che fa le urbanizzazioni e una che fa la realizzazione delle casette compreso il fatto vi racconto un aneddoto velocissimo siccome dopo 15 anni 17 anni oggi di esperienza nella protezione civile all'Aquila abbiamo avuto questo problema sempre perché le regole del codice degli appalti chi fornisce le casette non può fare le urbanizzazioni bisogna fare due gare separate ci siamo trovati con la ditta che andava a montare la casetta che diceva che non era livellata abbastanza la platea di fondazione e quindi bisognava livellarla quindi costi aggiuntivi allora che cosa ho fatto quando abbiamo rifatto la gara ho detto non mi fregate più abbiamo fatto un bando di gare abbiamo detto bene la ditta che fornisce la casetta fornisce il progetto esecutivo dell'urbanizzazione e assiste l'amministrazione nella fase di realizzazione delle SAE lo sanno gli amici delle regioni che sono qua ce ne sono tre su quattro quando siamo arrivati alla fine abbiamo trovato l'umidità sotto alcune SAE la ditta ha detto io ho progettato vi ho assistito durante l'installazione ma poi quando voi avete sistemato il terreno intorno lo avete elevato rispetto al piano di fondazione quindi io non garantisco perché non c'ero un'altra 800 e oggi diamo l'avvio alla prima settimana della protezione civile il dopo non funziona così perché andando a Visso insieme all'amico David Piccinini mi sono ritrovato con le telecamere che puntavano i cartoni che da 15 giorni stavano lì fermi perché la ditta che aveva montato i mobili non li aveva portati via e quello che doveva completare l'urbanizzazione non gli toccava perché erano rifiuti e doveva rimuoverli quegli altri quindi dobbiamo efficientare questa cosa anche andando a rafforzare il sistema non si può scaricare sui colleghi delle regioni o sui sindaci queste cose ce la dobbiamo assumere tutti quanti le responsabilità è per questo che io ho chiesto alle forze armate voglio qui ringraziare anche il comandante del COI ma io ho chiesto ai massimi vertici delle forze armate voglio poter coinvolgere le strutture del genio che sono specializzate e che dal punto di vista normativo hanno superato i 40 anni di età e che non possono essere impiegate in teatri operativi impiegamoli per scopi di protezione civile per fare prevenzione e pianificazione dell'emergenza dove abbiamo da pianificare e di gestire il supporto e il controllo delle attività la semplificazione della normativa in materia ambientale lo sanno i presidenti e le regioni che stanno qui quelli colpiti l'amico Marco Gabusi assessore della regione Piemonte è venuto fuori anche ad Alessandria il tema della pulizia degli albi dei fiumi e quindi è un tema che va affrontato normativamente vanno semplificate lo sa l'amico Giacomo Giampedrone l'efficientamento delle verifiche di agibità è un altro collo di bottiglia io l'ho detto fa parte di uno degli emendamenti che abbiamo presentato al decreto legge questo del terremoto noi abbiamo nel centro Italia realizzato 219 mila verifiche di agibità ci abbiamo messo un anno questa cosa non è possibile perché con un anno noi abbiamo tenuto la gente negli alberghi non si sapeva se poteva rientrare in casa non poteva rientrare in casa allora dobbiamo fare ricorso a quello che noi abbiamo come sistema quindi i professionisti della pubblica amministrazione ma non bastano io voglio coinvolgere gli ordini professionali siccome io mi occupo di protezione civile a me quello che conta è il risultato se la persona può entrare in casa o non può entrare in casa se non può entrare in casa devo sapere se è un danno grave o un danno lieve non mi interessa quant'è il danno accertato quello lo faranno i professionisti in sede di ricostruzione quindi avere a disposizione i tecnici professionisti che abbiamo già delle regole di ingaggio predeterminate coinvolgiamo io voglio avere migliaia di professionisti sul campo per le verifiche di agibilità e non centinaia se ci va bene un centinaio di squadre su tutto il territorio quindi questa è una delle attività e lo ha ricordato il presidente Bianco è fondamentale la continuità amministrativa ci sono dei comuni come il comune di Arquata del Tronto che avrà fatto due faceva due ordinanze al mese che si ritrova durante il terremoto a dover fare centinaia e centinaia di ordinanze questo lo dobbiamo garantire grazie al supporto che possono dare gli altri comuni ma dobbiamo mettere in piedi un sistema che consente poi a chi cede queste professionalità temporaneamente di poter sopperire a queste esigenze chiudo voglio chiudere con le parole del nostro padre fondatore questa è l'eredità che ci lascia della nostra più grande responsabilità che abbiamo tutti quanti lui diceva che la mia ambizione è quella di dare al nostro paese un sistema efficiente e moderno di protezione civile cui le altre nazioni guardino con rispetto e ammirazione questo ho in mente null'altro e credo che questo è quello che tutti quanti noi abbiamo in mente quando facciamo il nostro ruolo grazie grazie a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti